Leonardo Di Caprio svela la sua beauty routine da 25 mila dollari Leonardo Di Caprio, oltre ad essere uno degli attori più talentuosi e famosi di Hollywood, è considerato a tutti gli effetti un autentico sex symbol Il suo viso d'angelo e il corpo muscoloso hanno conquistato decine di splendide donne, sia colleghe del mondo del cinema che top model di fama internazionale Ma qual è il segreto del bel Leonardo per essere così irresistibile e irraggiungibile? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sua beauty routine da migliaia di dollari al mese 25 mila dollari di bellezza, Leonardo Di Caprio non sbaglia. Molto spesso si tende a pensare che la cura per il proprio corpo sia una prerogativa esclusivamente femminile, e invece no, Leonardo Di Caprio ne è la dimostrazione vivente Lattore infatti ha deciso di non rassegnarsi al fluire del tempo e per questo motivo ogni mese si sottopone ad una serie di trattamenti che lo aiutano a prevenire i segni dell'invecchiamento La pelle in primis è l'aspetto più importante per mostrarsi nella propria forma migliore, la star di Hollywood ha installato nel suo appartamento a New York una doccia con un sistema per diffondere vitamina C, che aiuta la produzione di collagene e il ringiovanimento della pelle Oltre a creme, particolari iniezioni per il viso e altre tipologie di trattamenti, Di Caprio ha assunto una guru delle sopracciglia, che viene chiamata dall'Australia ogni mese per rendere perfetto il suo contorno viso, con tanto di colorazione e disegno Il volto di Leonardo è considerato un tempio sacro della bellezza, ma non si può dire altrettanto del suo fisico, più volte infatti è stato oggetto di battute ironiche per il suo corpo un po' appesantito e poco scolpito Per rimediare, l'attore ha deciso di rinunciare alla carne e di sottoporsi ad alcune sessioni di attività cardio e pesi Essere belli, ma a che prezzo? Per garantirsi una cura del corpo a dir poco infallibile, l'attore spenderebbe circa 25 mila dollari al mese, i risultati però sono sicuramente visibili a tutti Il bel Leonardo, come essere irraggiungibili? Leonardo Di Caprio non è più lo stesso dei tempi di Titanic, il tempo passa per tutti, anche per le dorate star di Hollywood Nonostante lo scorrere degli anni, il famoso attore ha deciso di dedicarsi alla cura del corpo e dello spirito, circondandosi di bellezza Oltre ad essere un grande appassionato d'arte, in particolare delle opere di talentuosi artisti contemporanea, Di Caprio si impegna anche nella difesa dell'ambiente, riconoscendo l'importanza del legame tra uomo e natura Considerato uno degli attori più talentuosi e camaleontici del momento, il bel Leonardo è anche un'icona sexy, le sue relazioni sono sempre state note, come quella con Black Lively e la splendida Gisele Bundken Nonostante i suoi 42 anni d'età, il vincitore del premio Oscar per Revenant continua a non voler mettere la testa a posto e ovviamente alle donne questo comportamento fa impazzire Bello, talentuoso e irraggiungibile, Leonardo Di Caprio è l'uomo che tutte le donne vorrebbero, tra una doccia di bellezza e un trattamento estetico Grazie a tutti